Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo delle vite dei santi, stavolta parliamo di un beato, il gradino prima del santo, parliamo di un santo giovane, beato giovane, il beato Pier Giorgio Frassati, che visse soltanto 24 anni, nacque nel 1901 a Torino e nella stessa città morì nel 1925. Un giovane santo che unisce in sé diverse anime, l'anima mistica anzitutto, perché fu un grande mistico, l'anima laica, perché non divenne mai sacerdote, rimase sempre laico, l'impegno per i poveri, l'impegno in politica e il coraggio di emergere soprattutto da una famiglia laicista e materialista come era quella in cui lui era nato, d'altra parte niente di nuovo sotto il sole, ciò era tipico della storia dell'inizio del XX secolo in Italia e anche in Europa, frutto ancora di quelle sterili tendenze anticristiane del risorgimento. Pensate che suo padre, Alfredo Frassati, era, quando Pier Giorgio nacque, proprietario e direttore della stampa, che poi dovette, dopo l'arrivo del fascismo, svendere il quotidiano alla famiglia Agnelli, che la possiede appunto dal 1926. Anche Pier Giorgio, come Don Bosco, come Marcellino Champagnat, manifesta la santità nella ordinarietà. Torino era agli inizi del Novecento una città elegante, ricca di idee, di battiti, ai piedi delle Alpi e delle montagne alpine così amate da Pier Giorgio, che era un grande sportivo. Pier Giorgio, data la famiglia in cui nacque, è un vero e proprio autodidatta della fede e del Vangelo. I suoi genitori lo mandano a studiare nel Istituto Sociale, nel Collegio Sociale dei Gesuiti, ma lo contrastano nell'approfondimento della fede. Anche lì fu la scelta di una scuola cattolica soltanto perché era una scelta più tranquilla. E lui, Pier Giorgio, impara a fare tutto da solo. Essendo un ragazzo anche di grande socialità, frequenta diversi gruppi, i gruppi che allora andavano per la grande, la FUCI, cioè la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, la San Vincenzo, il Partito Popolare di Don Sturzo, che nacque nel 1919, recita il rosario ogni giorno, fa la comunione ogni giorno, è davvero conquistato da Gesù Cristo e si direbbe, almeno apparentemente, senza alcuna mediazione o condizionamento umano. Pensate che suo padre, Alfredo Frassati, nel febbraio del 1922, da Berlino, dove era stato mandato perché aveva anche incarichi diplomatici per conto del governo italiano, gli scrive Pier Giorgio, agendo sempre senza riflessione nelle cose che per te dovrebbero essere importantissime, e cita l'ultimo libro che doveva studiare per l'esame universitario, diventerai un uomo inutile agli altri e a te stesso. Il senatore Frassati, che era anche senatore del Regno, cioè del Regno ovviamente, perché l'Italia era ancora una monarchia, non poteva immaginare invece che figlio aveva partorito. Eppure in comune Pier Giorgio e Alfredo avevano alcuni grandi valori, l'intraprendenza, il coraggio, una retta caparbietà e più tardi entrambi, senza quartiere e senza svista, l'opposizione al fascismo, che si instaurò il 31 ottobre del 1922 in Italia. Pier Giorgio, che non era un grande studioso, si iscrisse a Ingegneria Meccanica Mineraria, al Politecnico di Torino. Una cosa tipica, diciamo, della sua creatività, che è anche la creatività dei Santi, è che lui fondò una società giovanile che chiamò la Società dei Tipiloschi. Pensate, lì in questa società dei Tipiloschi, Pier Giorgio mostrò di essere una valanca di vita, amò lo sport, soprattutto l'arrampicamento nelle montagne, la musica, la lettura di Dante all'Ieri, diventa contagioso nella sua allegria. In un suo scritto frammento ritroviamo «Ogni cattolico non può non essere allegro, la tristezza deve essere bandita dagli animi cattolici». Ama le montagne e, pensate, è capace di trascinare gli amici alla messa delle cinque del mattino, prima di portarli con loro o di andare insieme a loro in una gita in montagna. Un giorno all'università, un amico anticlericale gli chiede «Sei diventato bigotto, Pier Giorgio?» E lui rispose in maniera magnifica «No, sono rimasto cristiano». Bellissima risposta, valida anche oggi, perché oggi il problema non è, diciamo, sarebbe anche di aumentare la fede, ma soprattutto ai tempi di oggi e della Chiesa di oggi, rimanere cristiani. Ma poiché la passione di Pier Giorgio è Gesù, lui dirà anche una frase bellissima «Noi dobbiamo vivere, non dobbiamo vivacchiare». Un'altra perla della sua santità ordinaria fu l'amore per i poveri. Pier Giorgio, che veniva da una famiglia abbastanza danarosa, ha le tasche sempre piene di foglietti, con indirizzi pensate di persone da aiutare. Una delle sue mete preferite è l'Istituto Cottolengo, fondato, ne parleremo in una trasmissione, da San Giuseppe e Benedetto Cottolengo per i disabili di mente. Pensate che il 3 luglio del 1925, cioè esattamente il giorno prima di morire, scrive un biglietto che poi fu ritrovato. Un giorno prima di morire, con le sofferenze, perché morì di una meningite fulminante, lui in questi foglietti aveva scritto le sue preoccupazioni. «Ecco le iniezioni da dare a converso, ecco la polizza da dare a sappa, l'ho dimenticata, rinnovatela a mio conto». Pier Giorgio anche si innamorò di una ragazza, un anno prima di morire, si chiamava Laura Hidalgo, era una giovane laureata in matematica, ma forse capì anche che quella non era la sua strada, o forse si sentiva già malato. Pier Giorgio aveva sicuramente pensato anche al sacerdozio, ma non se ne sentiva degno, e anche in questo i credenti vedono l'opera di Dio, perché abbiamo un santo laico. Nell'ultima fase della sua esistenza, forse col presagio di morire, Pier Giorgio abbandonò alcune attività. Venne colpito da poliomelite fulminante a 24 anni, ma non gli uscì, pensate nemmeno un lamento, perché la famiglia, che pure gli voleva bene, era distratta dalla sua malattia ed erano tutti occupati al capezzale della nonna, la signora Ametis, che era la mamma della mamma. La sua morte convertì i genitori, convertì i genitori soprattutto il padre, genitori che rimasero sconcertati dalla folla presente ai suoi funerali, che furono celebrati in una chiesa di Torino, specialmente tanti poveri. Ecco un'altra dinamica della santità, il nascondimento. Pier Giorgio non aveva detto a nessuno il bene che faceva ai poveri, se non forse ai suoi amici più stretti. Il padre, pensate, dopo tutti gli encomi, tutti i complimenti, tutto l'affetto che ricevette a motivo di Pier Giorgio, dopo la sua morte, iniziò a raccogliere testimonianze su di lui, ma poi il 16 luglio 1926, il governo fascista gli intimò di lasciare la stampa, il giornale di sua proprietà. Alfredo però, padre di Pier Giorgio, continuò la sua ricerca, e bisogna dire che il primo miracolo di Pier Giorgio fu proprio la conversione del padre alla fede. il padre morì il 21 maggio del 1961, nel giorno di Pentecoste. Pier Giorgio fu beatificato invece il 20 maggio 1990. Andatevi a guardare il testo, la cui indicazione trovate sotto il filmato. Alla prossima!